Ciao amici di Che Cucino, bentrovati nella mia cucina. È iniziata la stagione delle zucche e oggi la preparo in padella con i fagioli. Prendo una zucca di medie dimensioni, la faccio a metà, la sbuccio e poi la privo dei semi. Infine la faccio a pezzi. Sminuzzo una cipolla, la metto in una padella, aggiungo olio extravergine di oliva e lascio dorare la cipolla. Poi aggiungo le zucche. Metto sale, pepe e origano e lascio cuocere la zucca. Quando è cotta aggiungo dei fagioli borlotti, utilizzo quindi in scatola. E la zucca in padella con fagioli è pronta! Grazie!